Nuovi sequestri in materia edilizia in riva al mare di Policastro nel comune di Santa Marina. Nella giornata di giovedì la Guardia di Finanza di Sapri, guidata dal tenente Nunzio Tricoli e i carabinieri del comando provinciale di Salerno in un'operazione congiunta hanno apposto i sigilli a cinque fabbricati in costruzione nei pressi dell'ex impianto di Ticoltura a pochi passi dal fiume Bussento e dal mare. Diversi gli indagati, tra tecnici, committenti, proprietari dei terreni e delle case in costruzione. Tra di loro ci sarebbero anche in questo caso familiari del sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato. L'operazione potrebbe rientrare nella più bassa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lago Negro che da un anno sta interessando la gestione comunale del settore edilizio e che ha già portato sotto inchiesta anche alcuni funzionari dell'ente locale. Proprio il 26 luglio dello scorso anno vennero effettuati i primi sequestri sul territorio comunale oggetto negli ultimi mesi di diversi interventi delle forze dell'ordine che più volte sono state viste anche in municipio per l'acquisizione di fascicoli e incartamenti. Dopo gli ultimi sequestri proseguono gli accertamenti della Procura di Lago Negro sull'intera area dove sono stati eretti i fabbricati.